Un saluto da Lilli tra i gomitoli e oggi tra i gomitoli abbiamo una novità. È venuta questa bravissima creatrice di collane, non solo di gioielli, ma di tante altre cose, che è venuta a portare tra i miei gomitoli delle bellissime collane. Con la scusa della festa della donna che si avvicina, ha voluto portare questo raggio di sole in una Milano un po' piovosa, un po' uggiosa e un po' sotto scacco con questo virus, ma non perdiamo di vista la luce, la luce che le donne hanno sempre dentro al cuore, dentro l'anima e che traspare da tutti i loro gesti, dalle loro parole, dai loro sguardi e posare uno sguardo su delle creazioni che rapiscono allo stesso tempo questo sguardo e ne fanno qualcosa di concreto, qualcosa che si può indossare, si può portare sempre per ravvivare in qualsiasi momento questa luminosità che è propria del femminile, senza nulla togliere gli uomini, per carità, però le donne hanno proprio questo dono.